Dopo aver installato Ubuntu 13.04 sull'Asus EPC ho dovuto forzatamente applicare delle modifiche per alleggerire l'interfaccia perché molte volte risultavano dei lag. Questo è un Asus EPC e devo dire che tramite queste modifiche si riesce ad avere un buon incremento delle prestazioni. La prima cosa è minimizzare lo Speed3Shield, come secondo passo abilitare lo Swap ZRAM e come ultimo passo disattivare tutti gli effetti utilizzando CompixConfig. Dopo aver eseguito questi tre passaggi noterete un netto miglioramento delle prestazioni di Ubuntu. Per qualsiasi problema vi prego di lasciare un commento nel video. La guida la trovate nel link in descrizione.